Musica Michelle Altieri che diventa Zorro, anzi viva Zorro, il nuovo spettacolo che inaugurerà la stagione teatrale del Sistina dal 9 di ottobre a Roma. Allora Michelle, il pizzetto ce lo siamo già fatto crescere per Zorro? Sì, sì, mi hanno obbligato praticamente, penso dal mese di febbraio, cioè di avere il baffo proprio per entrare anche nella stagione del personaggio ed è un dettaglio perché poi in realtà il personaggio è nato dal cuore, quindi da tutt'altro che da quello che vedete ma da quello che non si vede. E le lezioni di scherma con il campione del mondo? Oddio mio! Le lezioni di scherma sono una grande sfida. Uno pensa di arrivare a 34 anni e di sapere già molto del proprio mestiere, invece ho imparato che si deve andare oltre. Se deve andare oltre mi sono cimentato, mi sto cimentando con questa disciplina che è incredibile perché mette insieme la tecnica al cuore, l'equilibrio, la forza. E devo dire che è appassionante perché poi quando va è come correre in macchina, è come volare, è come volare col vento in faccia. Michelle e le sfide? Allora, Michelle e le sfide? Le sfide? Le sfide sono... Io credo che il coraggio ti scegla. Il coraggio è come pioggia che tra mille gocce ti sceglie. E poi sta a te, sta a te prendere questa occasione per te stesso ma soprattutto per gli altri. Che il coraggio per se stessi non ha senso, perché un mondo da soli non ha senso. Quindi se vuoi cambiare qualcosa del mondo, qualcosa della tua vita, lo devi fare con qualcuno, devi includere qualcuno al tuo cuore. E il cuore ha bisogno di coraggio. Grazie Michelle e all the best. Tutti gli auguri del mondo per questo viva Giorro! Oh yes, viva! Forever! Alberta Itzo, l'interprete, la protagonista principale di Cecilia, in Zorro, la piece che aprirà la stagione teatrale del Sistina il 9 di ottobre. E allora, Alberta, questa Cecilia che sa far tutto, compreso tirare di scherma... Sì, è vero, è vero. È una bella sfida per me. Oltre alla danza, vabbè, nasco come ballerina, quindi di quello ho un bel bagaglio. Però il flamenco, la scherma sono discipline nuove. E Cecilia è un personaggio che amo fare, perché è il fuoco, è una forza della natura, è il colore rosso, è il coraggio, è la determinazione. È una che crede nei valori e arriva a un certo punto che dice, io non ho niente da perdere. Metto a rischio la mia vita, ma io devo arrivare a far capire a tutti che quando si vuole si possono ottenere le cose, ovviamente senza violenza, senza niente, però mi piace perché è determinata, riesce ad ottenere quello che vuole. La musica è bellissima e il flamenco? Il flamenco è strepitoso, c'è il primo pezzo iniziale fatto dai ballerini che credo sia un'esplosione. E poi, come dicevo, ritorniamo sul colore rosso, sulla passione. Il flamenco è proprio elegante, è femmina, se puoi dire, è proprio donna. E quindi dà una forza in più a questo spettacolo. In tre parole, come inviterebbe gli spettatori a venire a vedervi? Allora, direi che vedrete una cosa che difficilmente si vede in Italia. Grazie Alberto e tutti gli auguri del mondo. Grazie. Chi non conosce Stefano Dorazio? È talmente bravo, la sua musica è talmente conosciuta che, vabbè, che vogliamo fare? Allora, raccontaci questo Viva Zorro. Viva Zorro è un musical che, così, avevo più che nel cassetto, nel cuore. Nel senso che mi evocava il carnevale della mia infanzia, quando appunto, con il costumino, il cappellino, la mascherina di Zorro, andavo a Piazza Navone e mi sentivo un eroe. Siccome di questi tempi di eroi che, in qualche maniera, rimettono un po' in linea le cose, ce ne sarebbe veramente bisogno, ora mi è venuto in mente di mettere su un musical dove racconto una storia inventata di come io immagino questo Zorro, di come sia andata, sempre ambientata nel Messico californiano, con questo padre che fa rientrare il figlio della Spagna, che l'ha mandato a studiare e a fare cose, e questo figlio, a un certo giorno, diventa l'erede di questo padre, di questo Zorro, e così rimette un pochino in linea tutto quello che succede in quel paese. Io ho detto la tua musica, perché tu le tue parole, ne scrivi tante, 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 sono musica, ma la musica ce l'hai dentro, naturalmente. La musica me l'ha regalata Robby Facchinetti, il mio amico per sempre, perché quando ho finito di scrivere questa storia mi sono reso conto che era pieno di talmente tante situazioni di grandi sentimenti che era sicuramente il più adatto per poterli raccontare. Ha fatto veramente un lavoro straordinario, tant'è che oggi siamo arrivati in zona quasi finale, perché debutteremo il 9 di ottobre al Sestina di Roma, e tutta questa cosa mi sta facendo credere che stia diventando una bella cosa, anche grazie al cast straordinario che siamo riusciti a mettere insieme, a Fabrizio Angelini che comanda tutti a bacchetta e ci fa diventare tutti quanti bravi, e poi la Casale che insegna ai nostri ragazzi a come interpretare le canzoni, e a Stefano Pantano che insegna a tutti a far di scherma, perché in questo musical si fa tantissima scherma, ci sono tantissimi numeri, tantissimo flamenco, c'è tanto ballo, tanta recitazione, c'è tanto di tutto, venitela a vedere come si dice. Perfetto, d'accordo, grazie ancora e tanti auguri. A te, grazie a te, ciao. Il regista dello spettacolo evento di quest'anno al Sestina, che aprirà la stagione, Fabrizio Angelini, ci vuoi raccontare? Viva Zorro? Il tuo, il mio è, prendendo spunto dal copione di Dorazio, uno spettacolo di ritmo e dinamica, soprattutto, molto veloce, di avventura, di scherma, di flamenco, e naturalmente di canto, danza e recitazione, che sono gli elementi tipici del musical, a cui abbiamo aggiunto queste due componenti, che sono veramente un valore aggiunto, perché aprono, chiudono lo spettacolo e lo arricchiscono durante dei momenti spettacolari. Con un casto spettacolare, come avete preso Michelle Altieri, che stava a Broadway? Michelle è stato contattato dalla produzione e, per fortuna, era disponibile in questo periodo e non gli è, come dire, non gli è sembrato vero di poter tornare a fare un salto in Italia per poter recitare nella sua lingua. Io lo conoscevo già, perché ho fatto dieci anni fa, dodici anni fa, anzi, esattamente, renta insieme a lui. Così come con Alberta Izzo, nel 2002, Bulli e Pube, entrambi hanno debuttato con me. Quindi questa è una bella soddisfazione di vedere i figli che crescono. È un bel ritorno e ti facciamo tanti, tanti auguri a questo Viva Zorro. Grazie mille, a presto. Jacqueline Ferri è il personaggio cattivo del Viva Zorro, cioè l'antagonista di Cecilia. Tu sei la moglie di Juan, se non mi sbaglio. Sì. E due cattivi messe insieme. E allora, raccontaci la tua cattiveria e le tue battaglie di scherma con Cecilia. Ah, fantastico. Fantastico perché, premessa, in realtà, proprio essendo nemica in scena, invece c'è una grandissima complicità come compagna di lavoro e quindi c'è voglia di far bene le due parti, una danza di ruoli, insomma. Quindi sì, la cattiva, la moglie di Juan è un po' la mente delle malefatte, nel senso... È lei che le studia. Sì, lei è proprio cattiva, cattiva, cattiva. Nel senso che magari mio marito, quello che fa mio marito nello spettacolo, avrebbe un momento di umanità in più, un attitubare rispetto a un evento o a qualcosa di molto, molto forte, un sopruso, insomma. Invece lei è più spietata. Quindi grande divertimento nel ricoprire questo ruolo perché intanto amo molto la trasformazione. Nel senso che al di là di quello che posso essere io mi piace trascindere me stessa, quindi cercare di diventare veramente una cattiva, un essere umano che fa delle scelte precise, che ha delle priorità, che ha una sua psicologia. Ecco, mi piaceva così affrontare in questo modo la cattiva dentro Zorro. E le scene di scherma che devono essere state meravigliose, e poi soprattutto con un maestro campione mondiale, campione del mondo, come Stefano Pantano, dovrebbe essere proprio una cosa di quelle divine. Sì, è stupendo. All'inizio eravamo tutti con le mani nei capelli perché vuol dire una grandissima disciplina, per cui arrivare a digiuno e fare in poco tempo quello che abbiamo fatto, all'inizio ci abbiamo messo un po' a capire proprio le figure. Ma non appena abbiamo capito questa cosa, grande divertimento, grande complicità e non ci risparmiamo, gli diamo proprio di scherma pesantemente. E allora in bocca al lupo. Lunga vita. Ciao. Siamo sempre festeggiando Viva Zorro che prenderà il via il 9 di ottobre al Teatro Sistina e conosce il pluripremiato e campione del mondo, maestro di scherma, Stefano Pantano. Stefano, allora, come ci si sente a lavorare con gli attori? Ma è un'emozione forte, un'emozione molto forte perché mi sono trovato proiettato in questo gruppo di straordinari professionisti, attori, cantanti, ballerini e un corpo insegnante di straordinario livello tra cui il mio amico fraterno Stefano Dorazio che le ha detto a Zorro sto facendo Zorro Zorro e mi ha telefonato a Zorro ho scritto Zorro e così mi sono appunto trovato proiettato in questa straordinaria realtà e che ho vissuto e sto vivendo con grande emozione perché ripeto lavorare con questi professionisti è una vera fortuna. Non ben nessuno viene dal mondo della scherma quindi la difficoltà è nell'insegnare un certo tipo di movimenti cercare di costruire duelli e ce ne sono tantissimi bellissimi quando cominciamo a vedere le filate quindi tutti insieme con i duelli montati in scena vi posso garantire che è già un'emozione forte quindi mi auguro che questa emozione la possa vivere anche il pubblico che verrà a vederci e pare che le più scatenate siano le donne le donne sono non vorrei dirlo sono bravissime non faccio paragoni se no qualcuno si offende sono fantastiche bene la ringraziamo e tanti auguri certo viva Zorro sempre Roby Facchinetti che è stato intervistato dall'Universo Mondo e sta svenendo dalla fama per cui dovremo essere brevissimi Roby e allora le musiche stupende di questo viva Zorro ma guarda è una storia un'altra avventura straordinaria questa avventura chiaramente a braccetto con Stefano e la rende ancora più straordinaria per me mi ha telefonato per chiedermi di fare di rivestire questi personaggi musicalmente e io sono stato veramente non felice di più di lavorare ancora una volta con lui stiamo parlando di Stefano D'Arazio naturalmente stiamo parlando di Stefano D'Arazio certamente ed è stato così come tutti i musical un lavoro lunghissimo un lavoro che il musical richiede veramente dei cambiamenti di stravolgimenti fino all'ultimo secondo e questo devo dire che è l'aspetto forse più bello perché tutto può essere messo in discussione perché è un lavoro in progress continuamente anche ieri che ho visto per la prima volta tutto d'un fiato il primo tempo ci sono stati tre o quattro cambiamenti e mancano veramente pochi giorni al debutto e devo dire che sono la terza siamo la terza esperienza di musical il primo fu Pinocchio poi Aladin sempre con Stefano abbiamo sempre visto tutto ti seguiamo esatto ormai questo se poi se uniamo tutto ciò che non c'è due senza tre il quattro viene da sé e il quinto c'è sicuramente insomma ci aspetta un futuro di musical da fare soprattutto insieme benissimo allora tanti tanti auguri e all the best per trovare qualcosa da mangiare perché mi sembra che abbiano finito tutto esatto ciao grazie a te di essere venuto e buon zorro a tutti ci vediamo ciao ok ti aspetto ciao ciao ciao